Superare tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di marginalità dei lavoratori migranti nelle cinque regioni del sud Italia coinvolte, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. E il progetto Supreme, i cui risultati sono stati presentati a Bruxelles dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. La Puglia ha infatti coordinato l'intero progetto, coinvolgendo sul suo territorio le aree di Manfredonia, San Severo e Cerignola nel Foggiano e Nardone e Leccese. Il progetto Supreme dimostra che non è vero, che non esistano idee e azioni politiche intelligenti per gestire i flussi migratori. Ha dato vita ad un esperimento che noi consideriamo unico in Europa, cioè quello di Casa Sancara. Casa Sancara era un'azienda agricola della regione Puglia abbandonata che è stata data in gestione con un piccolo sostegno dalla parte pubblica a migranti che erano già stabilmente in Italia e che l'hanno trasformata in un luogo dove la prima accoglienza viene effettuata attraverso il lavoro agricolo che autofinanzia la struttura e che poi consente anche una seconda fase che grazie al progetto Supreme si è potuta realizzare trasformando una struttura pubblica in una vera e propria struttura imprenditoriale che vende i prodotti agricoli nella grande distribuzione. Grazie a tutti.